Anna, per fortuna non sei venuta a scuola in questi giorni Al posto di quella di matematica è arrivato un supplente terribile Sì, uno che oltre a non ricordarsi mai i nomi ci ha caricati di compiti Compiti? Che compiti? Che domani torno in classe anch'io Niente paura Anna, tu ormai l'hai scampata Tanto oggi è tornata la nostra Ma lui quello era davvero un orco, un tipo terribile che tutte le volte che dice geometria rotea gli occhi così Geometria Mamma mia, per fortuna non c'ero, però non mi sembra così terribile Comunque molto meno pericoloso del maestro di Salamanca Perché? Cosa ha fatto questo maestro di... di... come hai detto? Salamanca Beh, lui sì che era impressionante, ma è una storia di molto tempo fa E tu raccontacela, vorrei proprio vedere come si fa ad essere peggio del supplente Vediamo Questo maestro era un tipo oscuro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti